Io vorrei evidenziare anche la valenza molto politica di un avvenimento del genere nel contesto attuale, perché comunque l'esperienza in cui nasce letteraria tanti anni fa purtroppo nasce in un contesto politico che ha subito delle modificazioni sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista dell'agibilità di luoghi dove è possibile attraverso la narrazione e anche essere dentro quello che accade nella nostra realtà, sembra essere l'unico momento in cui si ha la possibilità di conoscere e ragionare su determinate cose. Penso che oggi la narrazione e molti di questi autori che scrivono anche riprendere come nell'ultimo numero di letteraria delle parole desuete che addirittura nel linguaggio comune costituiscono quasi un terrore, utopia, è una parola che viene accostata generalmente al fallimento di un'ansia e di un'emozione, viene quasi demonizzata come tante altre parole che nel novecento, nel secolo passato hanno costituito aspettative eccetera. Quindi riprendere questo filo oggi attraverso le narrazioni di scrittori e attraverso questo progetto di letteraria che dopo tra l'altro il festival si fa quest'anno a Bologna ma noi nel passato abbiamo sempre presentato altri numeri, abbiamo anche cercato di sostenere proprio sia per il legame di affetto con Stefano ma anche per il progetto in sé e per i contenuti di letterario. Quindi non è semplicemente un evento tra virgolette culturale come si tenta di fare è qualcosa molto di più, molto più profondo ed è anche una visione di come noi rimaniamo dentro la storia, ci vogliamo rimanere aggrappati, noi ce la vogliamo far scippare.